Ben arrivato! Grazie, tornato da Lugano. Sì, il professor Berlazza, oltre ad essere un rinomato ginecologo, è un carameco di qui. Ho saputo che sei andato fino a Lugano per prendere il dottor Bellezza. Ogni tanto qualche gestore, ecco, me lo concedo anch'io. Tantica ha accompagnato il vostro primo palo da fidanzati. La sua fonte è più informata di voi.